Manca solo l'ufficialità per il ritorno di Massimo Oddo sulla panchina del Pescara a distanza di 4 anni. Il tecnico 44enne si è incontrato nel primo poveriggio di oggi negli uffici della società abruzzese con il presidente del Pescara Daniele Sebastiani per rimodulare ulteriormente alcuni dettagli del contratto. Adore attesa la fumata bianca che dovrebbe così chiudere un tira e molla che dura ormai da diversi giorni. I colloqui con i tecnici che erano stati individuati per guidare la formazione abruzzese nel prossimo campionato cadetto sono stati ritardati nelle ultime settimane anche da alcune trattative che i dirigenti abruzzesi stanno portando avanti da alcuni giorni con almeno tre cordate di imprenditori che avrebbero mostrato interesse ad un eventuale ingresso in società anche rilevando la maggioranza delle quote azionarie del sodalizio abruzzese. In tal senso nei prossimi giorni potrebbero esserci novità. L'unica certezza al momento riguarda l'avvio del ritiro precampionato dei biancazzurri che si raduneranno domani per gli accertamenti sanitari e per le prime sedute atletiche al Delfino Training Center di Marina di Città Sant'Angelo ore decisive per il Pescara con l'apertura ufficiale del calciomercato prevista per il primo settembre e dunque ormai alle porte.